È stata presentata a Roma la campagna informativa Non è come sembra, un'iniziativa che nasce per informare sull'infezione da virus respiratorio sinciziale. Questo virus causa malattie respiratorie acute che possono evolvere in forme severe, soprattutto in neonati, bambini sotto l'anno di età, anziani e pazienti fragili. La campagna è promossa dall'Associazione Nazionale Pazienti Respiriamo Insieme e noi abbiamo incontrato la Presidente, Simona Barbaglia. Perché l'infezione da virus respiratorio sinciziale rappresenta un pericolo per la salute pubblica? L'Associazione Nazionale Pazienti, sin dal 2014, cioè da quando si è costituita, è impegnata nel promuovere e tutelare la salute dei pazienti adulti e bambini affetti da patologie respiratorie. Questo virus è un grande nemico di questa popolazione perché va a complicare una pregressa patologia e purtroppo a complicarne di molto l'esito. La grande maggioranza delle persone fragili che contraggono questo virus, ahimè, hanno una maggiore possibilità di sviluppare una forma grave e purtroppo di incorrere in un potenziale decesso. In Italia 26.000 sono i ricoveri a causa di questo virus di pazienti fragili sopra i 60 anni e ahimè sono 1.800 le persone che non ce la fanno a causa di questo virus. Che armi abbiamo per difenderci? Per fortuna la ricerca e le tecnologie sempre più ci donano armi per combattere questa battaglia e oggi la ricerca ci sta dando strumenti di prevenzione importanti e fondamentali e tutti insieme dobbiamo fare in modo che vengano usati contro questo virus. Con l'evento di oggi, con questa nostra iniziativa, noi vogliamo riuscire a costruire un'alleanza tra il mondo scientifico, tra il mondo delle istituzioni e dei decisori, con il mondo dell'associazionismo e anche delle aziende che sono in grado di fornirci strumenti di prevenzione affinché si possa sempre più informare, aumentare la consapevolezza e proteggere tutta la popolazione generale e soprattutto i pazienti fragili che noi tuteliamo.